salve a tutti oggi vi faccio vedere come fare questo io lo sto per usare per fare una coperta devo fare molti come questi poi li attacco tutti insieme faccio mettere tutti insieme è fatto per fare una coperta è un bellissimo disegno come vedete spero che capirete quello che sto facendo quel e quello proverete sto per usare questi due colori per fare questo la l'uncinetto usate l'uncinetto dipende dalla lana che state per usare quando andate a comprare la lana mi dita di darvi un uncinetto che va con con la lana che voi comprerete allora cominciamo con 4 catenelle una due tre e quattro andiamo nella prima catenella qui e lo chiudiamo con una maglia bassissima adesso dovremo lavorare in centro qui allora cominciamo con quattro catenelle una due tre e quattro le tre catenelle le prime tre servono come una maglia alta e la catenella una catenella che li separa dobbiamo fare 11 maglie alte in mezzo una con una catenella che li separa allora dovete fare 11 maglie alte nel centro con una catenella che li separa con le tre catenelle di prima dovete avere 12 perché come vi ho detto le prime tre catenelle quella servo quelle servono come una maglia alta allora fate 11 maglie alte con una catenella che li separa e le tre catenelle sono 12 le 12 sono pronti come vedete finiamo con una catenella andiamo nella terza catenella che abbiamo fatto e lo chiudiamo con una maglia bassissima adesso cominciamo la prossima righe una catenella e facciamo una maglia basta nello stesso posto dove abbiamo fatto la catenella una catenella e dobbiamo fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta che abbiamo con una catenella che li separa date nella prossima una maglia bassa una catenella nella prossima maglia alta è una catenella che li separa e continuate tutta la riga così questa è pronta come vedete adesso stiamo per fare questi qui questa qui stiamo per fare allora prendo l'altro colore e faccio due catenelle sto per lavorare con questo colore e dobbiamo fare una maglia altissima ma gli altissima fare girare due volte la lana sull'uncinetto prendiamo le prime catenelle qui questo è un po un colore un po scuro quando queste sono le prime tre catenelle che abbiamo fatto e dobbiamo mettere l'uncinetto dalla prima riga e fare una maglia altissima l'ultimo punto lo lasciate sull'uncinetto e dobbiamo fare un'altra nello stesso posto poi farli uscire tutte e due insieme così adesso stiamo per lavorare con questo colore di nuovo e dobbiamo lavorare nelle maglie basse di prima dobbiamo fare due maglie basse andiamo alla prima questa è la prima sempre mettere la lana così così continui con con il colore e dove sono due prendiamo di nuovo questo colore e facciamo altre due maglie altissime adesso nella seconda maglia alta questa nel questa è la seconda mettere l'uncinetto da legali così fallisce far lasciare l'ultimo punto sull'uncinetto e facciamo un altro nello stesso sempre nello stesso posto e poi fallisce insieme siamo arrivati qui e prendiamo l'altro colore di nuovo andiamo nelle maglie basse di prima facciamo due maglie basse con il colore di prima una e due è di nuovo prendiamo questo colore facciamo due maglie alte in questa nella prossima adesso nella terza sempre mettere un l'uncinetto da legali questa è la prima nella seconda nello stesso posto e poi farli uscire tutte e due insieme così di nuovo prendiamo l'altro colore adesso e facciamo due maglie basse nelle due maglie basse di prima e dovete continuare tutta la riga così come ho fatto finché qui avrete 12 dovete avere 12 qui di questi la riga è pronta come vedete abbiamo 12 qui e finiamo andiamo qui e la finiamo con prendiamo le due lane così e definiamo con una maglia bassissima adesso stiamo per lavorare soltanto con questa lana questa riga questa la lasciate qui non la tagliate perché poi dobbiamo usarlo più volte allora cominciamo come una catenella e dobbiamo fare una maglia bassa in ogni maglia bassa che abbiamo tutta la riga una maglia bassa in ogni maglia bassa che abbiamo è anche una in questi dove abbiamo fatto questi due insieme continuate tutta la riga così dovete avere 36 maglie basse tutta la riga dovete avere 36 maglie basse anche questa riga è pronta lo abbiamo chiuso con una maglia bassissima nella prima catenella adesso cominciamo la prossima riga una catenella e dobbiamo fare una mezza maglia alta nelle prime due una e due mezza maglia alta e nella prossima dobbiamo fare due mezza maglie alte nello stesso posto uno e due una nella prossima un'altra nella prossima e nell'altra due mezze maglie alte nello stesso posto una nella prossima un'altra nella prossima e due nello stesso posto uno e due e continuate tutta la riga così una una due una una due tutta la riga così dovete avere 48 in tutto dovete avere 48 maglie alte anche queste righe pronte come vedete l'abbiamo chiusa con una maglia bassissima adesso dobbiamo cominciare da qui sopra questa qui e come quello facciamo con questo colore ma prima prendiamo un'altra lana e arriviamo fino a lì con una maglia bassissima variato fino a qui sopra questa qui sopra una di questi dobbiamo cominciare e prendiamo l'altra l'altro colore una catenella e dobbiamo fare una maglia altissima prendiamo l'uncinetto lo mettiamo dietro questi due facciamo una maglia altissima adesso in questo colore lo lasciamo così qui prendiamo un altro colore e facciamo tre maglie basse una due e tre siamo arrivati sopra questa di nuovo prendiamo questa lana e facciamo una maglia altissima l'uncinetto lo mettiamo così facciamo un'altra maglia altissima adesso di nuovo questo lo mettiamo qui la lana la mettiamo qui prendiamo l'altro colore facciamo altre tre maglie basse una due e tre di nuovo siamo arrivati sopra questa allora facciamo una maglia altissima e dobbiamo continuare tutta la riga così di nuovo prendiamo questo colore facciamo tre maglie basse una due e tre e continuate tutta la riga così arrivate qui fate una di questa come questa qui stiamo facendo questa parte qui questa parte qui stiamo facendo continuate tutta la riga così anche questa riga è pronta come vedete cominciamo la prossima con una catenella e una maglia bassa nelle prossime tre maglie basse due e tre adesso nella prossima due maglie basse nello stesso posto altre tre maglie basse nelle prossime tre una due e tre e nella prossima due insieme una e due altre tre una sempre una maglia bassa 2 e 3 e 2 maglie basse nello stesso posto dovete continuare tutta la riga così 3 2 3 2 3 2 in tutto dovete avere 60 60 maglie basse 60 adesso stiamo per fare questa parte qui questa parte qui stiamo per fare la riga pronta come vedete cominciate con una catenella prendete la latina la mettete così qui così fate 3 maglie basse 1 2 e 3 come vedete siamo arrivati in mezzo a questi due qui prendete l'altra lana facciamo una maglia altissima cominciamo da questa qui facciamo una maglia altissima l'ultimo punto lo lasciamo sull'uncinetto facciamo un'altra e andiamo a questa qui adesso e poi li facciamo uscire di tutte e due insieme e abbiamo così questo qui la nana la mettete qui questa prendete l'altra e fate quattro maglie basse 1 2 3 e 4 siamo arrivati in mezzo a questi due prendete l'altra lana di nuovo una maglia altissima andiamo in questa qui questa è la prima la lasciamo sull'uncinetto e facciamo un'altra l'ultimo punto lo lasciamo solo facciamo un'altra in cui in questa qui e poi le facciamo uscire tutte e due insieme e questa è la seconda mettete la lana qui di nuovo prendete l'altra lana e fate quattro maglie basse una due tre e quattro siamo arrivati di nuovo mezzo prendiamo l'altra una maglia altissima ma prima in questa qui c'è una maglia altissima l'ultimo punto lo lasciate qui e poi andate nell'altra e qui abbiamo un'altra pronta e di nuovo mettete la lana così quattro maglie bassissime basse e continuate tutta la riga così e avrete questo risultato qui anche questa riga pronta cominciamo con la prossima riga con questo colore adesso una catenella e dobbiamo fare 3 maglie basse nelle prossime 3 1 2 e 3 siamo arrivati qui sopra questa in questa facciamo 2 maglie basse 1 e 2 adesso 4 maglie basse 1 2 3 e 4 e 2 maglie basse qui in mezzo dobbiamo fare 2 1 e 2 in mezzo a questi due dobbiamo fare 2 maglie basse poi negli altri 4 1 una soltanto 2 3 e 4 siamo arrivati qui e loro facciamo 2 1 sempre maglie basse 2 nelle prossime 4 1 2 3 e 4 qui facciamo 2 1 e 2 continuate tutta la riga così 4 e qui 24 e qui dove continuate tutta la riga così adesso stiamo per fare questi qui questi qui stiamo per fare questi e dobbiamo lavorare abbiamo tagliato la lana tutti e due le lane giriamo il lavoro e dobbiamo lavorare sul rovescio troviate questa qui in mezzo per cominciare dal mezzo questa qui dove ci scelavi qui in mezzo e mettere la lana lì una catenella è una mezza maglia è una mezza maglia bassa lì e facciamo altre due maglie basse 2 ma allora una maglia bassa una catenella una maglia bassa altre due e come vedete sono siamo arrivati in mezzo a questi qui abbiamo cominciato da qui e siamo arrivati in mezzo a qui e qui e dove viene questa questa in mezzo allora prendiamo un'altra lana andiamo nel nel prossimo punto facciamo uscire un punto e facciamo quattro maglie alte l'ultimo punto lo lasciamo sull'uncinetto 123 e 4 e poi lo facciamo uscire insieme di nuovo adesso prendiamo questo colore qui la nana questa non la mettiamo qui e facciamo cinque maglie basse nelle prossime cinque una due tre 4 e 5 siamo arrivati di nuovo a mezzo a questi due qui allora prendiamo l'altra lana e facciamo quattro maglie alte una sempre l'ultimo punto lo lasciamo sull'uncinetto 2 3 e 4 e li facciamo uscire mettere la lana qui prendiamo questa è di nuovo facciamo cinque maglie basse una 2 3 io sto lavorando sempre sul rovescio e 3 4 e 5 di nuovo siamo arrivati in mezzo a questi due prendiamo l'altra lana facciamo quattro maglie alte sempre lasciando l'ultimo punto sull'uncinetto 2 3 e 4 e continuate tutta la riga così poi altre 5 arrivate in mezzo a qui fate una 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 questa non è arrivata è venuta arrivate in mezzo qui fate quattro maglie alte poi li fate uscire insieme sempre e mezzo questo qui altre cinque maglie basse arrivate qui e fate questa qui sempre dal rovescio dove dovete lavorare questa riga continuate tutta la riga così adesso stiamo per fare questa parte qui questa parte qui la riga pronta di prima cominciamo con con questo colore prima facciamo una catenella e abbiamo qui abbiamo una maglia facciamo una maglia altissima da qui a qui una catenella è un'altra maglia altissima nello stesso posto vengono così prendiamo l'altra lana nell'altro colore qui e facciamo questa non la mettiamo sempre qui davanti cinque maglie basse 1 2 3 4 e 5 siamo arrivati di nuovo qui prendiamo questa facciamo 2 maglie altissima nello stesso posto con una catenella che gli separa una una catenella una catenella è un'altra maglia altissima due maglie altissima come una catenella che li separa di nuovo mettiamo la lana qui prendiamo questa qui facciamo altre cinque maglie basse 1 2 3 4 5 e di nuovo siamo arrivati qui e facciamo lo stesso 2 maglie altissime qui da qui a qui questa è la prima una catenella un'altra e continuate tutta la riga così qui fate due maglie altissime con una catenella che li separa e cinque maglie basse qui questa riga è pronta e cominciamo la prossima riga con questo colore cominciamo con una catenella adesso dobbiamo fare una maglia bassa in questa qui nella prima maglia altissima che abbiamo fatto prima qui di mezzo dove abbiamo fatto lo catenelle dobbiamo fare due maglie basse è un'altra maglia bassa nell'altra maglia altissima adesso qui dobbiamo fare cinque maglie basse in mezzo 1 2 3 4 e 5 un'altra maglia bassa nella prima maglia altissima di prima nelle catenelle 2 maglie basse è un'altra maglia bassa nella prossima maglia altissima e di nuovo altre cinque maglie basse 1 2 3 4 e 5 continuate così qui una maglia bassa nella prima maglia altissima 2 maglie basse nella catenella una maglia bassa nell'altra maglia altissima e 5 maglie basse qui continuate tutta la riga così la riga è pronta cominciamo la prossima riga con una catenella e dobbiamo una fare una maglia bassa in ogni maglia bassa che abbiamo tutta la riga una maglia bassa continuate così con una maglia bassa tutta la riga adesso stiamo per fare questa qui le parla parte qui dove la questa non rimarrà così ma avviene come una così come si dice coners mi sono dimenticato come si dice coners qui adesso vi faccio vedere cominciamo con una allora voi dovete arrivare qui se se avete finito qui fate arrivate qui con una maglia bassissima finché arrivate qui sopra questa qui e lavoriamo soltanto con questa lana una catenella andiamo qui fare una maglia bassa nello stesso posto una mezza maglia alta nell'altra è una maglia alta 2 catenelle un'altra maglia alta una maglia bassa una mezza maglia alta scusate è una maglia bassa e questa è la prima come si dice corner sono dimenticata così viene quadro quadrata adesso dobbiamo lavorare sopra questa facciamo una maglia altissima mettiamolo incinetto così abbiamo una maglia altissima una catenella una maglia bassa in mezzo qui in mezzo a questi due è un'altra maglia altissima nell'altra una testa una sinistra così adesso sei maglie basse 1 2 3 4 5 6 e lavoriamo di nuovo su questa qui una maglia altissima qui così qui di mezzo facciamo una maglia bassa è un'altra maglia altissima in questa qui e questi sono due come vedete di nuovo 6 maglie basse 1 2 3 4 5 e 6 è una maglia altissima qui e facciamo una maglia altissima qui una maglia bassa qui in mezzo è un'altra maglia altissima nella prossima e questi sono 3 1 2 3 adesso dobbiamo fare come abbiamo fatto qui una maglia bassa una mezza maglia alta è una maglia alta 2 catenelle un'altra maglia alta una maglia bassissima una mezza maglia alta scusate è una maglia alta e questa è la seconda questa è la prima di mezzo abbiamo fatto tre e facciamo di nuovo come abbiamo fatto prima una maglia altissima qui una mezza maglia alta qui è un'altra maglia altissima qui è come questa e poi qui fate sei maglie basse come abbiamo fatto qui dovete fare tre tre con qui poi fate questa qui avrete la seconda la terza altre tre e la quarta qui e avrete sarà quadrata questa viene quadrata continuate tutta la riga così adesso cominciamo la prossima riga la lana l'abbiamo tagliata questa qui perché non lo usiamo più adesso soltanto con questo colore e dobbiamo lavorare e arrivare fino a qui allora se avete finito qui per arrivare qui andate così con una maglia bassissima finché arrivate qui due catenelle e fate 3 maglie alte una due e tre due catenelle e altre 3 maglie alte una 2 e 3 adesso una maglia bassa una mezza maglia alta un'altra mezza maglia alta e qui nella prossima due mezze maglie alte nello stesso posto siamo arrivati qui lavoriamo in questa qui facciamo una maglia alta l'ultimo punto lo lasciamo sull'uncinetto questa la saltiamo andiamo qui l'uncinetto lo mettete così e fate un'altra maglia alta poi li fate uscire insieme adesso sei maglie basse una due tre quattro cinque e sei siamo arrivati qui di nuovo una maglia alta qui l'ultimo punto lo lasciate sull'uncinetto andiamo alla prossima e poi li facciamo uscire insieme altre sei maglie basse una due tre quattro cinque e sei e di nuovo qui una maglia alta qui lasciate l'ultimo punto sull'uncinetto andiamo alla prossima e poi li fate uscire insieme siamo arrivati qui adesso allora facciamo due maglie basse nello stesso posto due mezze maglie alte scusate due mezze maglie alte una mezza maglia alta nella prossima un'altra mezza maglia alta nella prossima e poi fate tre maglie alte tre maglie alte una due e tre due catenelle e altre tre maglie alte una due e tre di nuovo due mezze maglie alte questa è per la prima la seconda nella prossima e qui due mezzo maglie alte insieme nello stesso posto una e due e fate continuate lo stesso qui una maglia alta un'altra maglia alta qui poi li fate uscire insieme sei mezzi o meglio a 66 maglie basse continuate come abbiamo fatto qui tutta la riga così anche questa riga è pronta come vedete adesso vogliamo cominciare da qui allora per andare lì facciamo dei punti bassissimi finché arriviamo qui una catenella una maglia bassa catenella è un'altra maglia bassa adesso facciamo cinque maglie basse una due tre quattro e cinque una maglia mezza maglia alta tre maglie alte una 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 due e cinque una mezza maglia alta quattro maglie basse una due tre e quattro un'altra mezza maglia alta un'altra mezza maglia alta quattro altre maglie basse una due tre e quattro un'altra mezza maglia alta quattro maglie basse una due e tre un'altra mezza maglia alta e cinque maglie basse una due tre quattro e cinque siamo arrivati di nuovo qui una maglia bassa una catenella un'altra maglia bassa e poi fare cominciare di nuovo questa riga cinque maglie basse una mezza maglia alta tre maglie alte ripetere questa riga finché arrivate qui poi quando arrivate qui ripetere stessa riga anche questa riga è pronta cominciamo con la prossima dobbiamo arrivare qui allora andiamo così facciamo una maglia bassissima finché arriviamo qui una catena e dobbiamo fare cinque maglie alte qui una due tre quattro e cinque adesso saltiamo questa qui andiamo nella prossima questa la saltiamo andiamo nella prossima facciamo una maglia alta andiamo di nuovo a quella che abbiamo saltato questa qui e facciamo una maglia alta di nuovo saltiamo la prossima andiamo all'altra facciamo una maglia alta e di nuovo andiamo in quella che abbiamo saltato e facciamo un'altra maglia alta di nuovo fa saltiamo la prossima andiamo nell'altra e facciamo una maglia alta e di nuovo andiamo in quella che abbiamo saltato e continuate tutta la riga così, fate così e qui fate 5 maglie alte, qui 5 maglie alte, 5 maglie alte, tutte le 4 e qui saltate una, andate all'altra, fate una maglia alta, poi andate di nuovo a quella che abbiate saltato. Anche questa riga è pronta, come vedete vengono così. Adesso dobbiamo andare in quella mezzo qui, andiamo con una maglia bassissima finché troviamo quella mezzo qui. E qui dobbiamo fare una catenella e 3 maglie basse, 1, 2 e 3, soltanto qui dobbiamo fare 3, qui, 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 in tutti i 4. Adesso abbiamo, come vedete, le catenelle qui, dobbiamo mettere l'uncinetto dietro qui e facciamo una maglia bassa. Dobbiamo fare tutta la riga così, una maglia bassa da dietro, così, mettere l'uncinetto qui. Qui abbiamo delle catenette, come vedete, mettere l'uncinetto qui e fare una maglia bassa. Dovete fare tutta la riga così, una maglia bassa da dietro e qui 3 maglie basse. Salve a tutti, questa è pronta, siamo arrivati all'ultima riga adesso. Andiamo qui, in qui. Una catenella, una mezza maglia alta nello stesso posto. Una maglia, una maglia bassa, scusate, una catenella, una maglia bassa. Adesso una mezza maglia alta e un'altra maglia bassa. Allora qui dovete fare una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia bassa, in tutti i quattro qui. Poi continuate come la riga precedente, mettere l'uncinetto qui dietro e fare una maglia bassa in ogni catenella che abbiamo qui, da dietro. Continuate così e come vi ho detto, qui una maglia bassa, una mezza maglia alta e un'altra maglia bassa. Continuate così. Questo è il risultato finale come vengono. Come avete visto, c'è un po' di lavoro per fare, per farli, ma sono molto belli. Poi li fai attaccare così, insieme. Alla fine di questo video metto un link come fare ad attaccarli insieme. Ho un video per sapere come farli. Spero che avete capito quello che stavo facendo e che lo proverete. Ciao per adesso! Ciao per adesso!